Io oggi ho una bellissima bellissima notizia per voi. Oggi è nata la IADA, l'Accademia di Formazione per le Famiglie e Coach per Adolescenti. Tutto questo è partito da UNITE. UNITE lavora con gli adolescenti in tutta Italia e non solo, anche in Olanda. Facciamo dei campus, seminari. Abbiamo girato l'Italia e l'Olanda, facciamo tanti corsi durante l'anno e con tutte queste esperienze, i nostri studi che abbiamo fatto in America, negli Stati Uniti, in Inghilterra. Abbiamo creato una nuova formula che non esiste dove tu puoi diventare coach per adolescenti o coach per le famiglie. Ti invito al primo weekend che sarà a Rimini da 25 a 27 maggio per vivere questa esperienza insieme a noi, per contribuire al futuro di domani che sono gli adolescenti e le famiglie. Grazie a tutti.